5 febbraio giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Ogni famiglia italiana getta cibo e bevande per un valore di 4,9 euro alla settimana. 6 miliardi l'anno buttati letteralmente nel cestino dei rifiuti. Considerando il valore dello spreco lungo tutta la filiera alimentare dai campi alla trasformazione alla distribuzione sino alle nostre tavole si arriva a 10 miliardi. Gettiamo via con gli alimenti sostanze essenziali come acqua, suolo, combustibili, fonti energetiche d'ogni tipo per non parlare dello spreco in termini di risorse umane che non viene conteggiato. Questa campagna pubblica di sensibilizzazione per l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile ricorda che gran parte del fabbisogno idrico mondiale è legato alla produzione di cibo. Tagliare lo spreco alimentare aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale e a tenere sotto controllo l'aumento della temperatura del pianeta. Nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite c'è un obiettivo ambizioso, dimezzare lo spreco pro capite a livello di vendita al dettaglio e ridurre le perdite di cibo lungo tutta la filiera. Un traguardo che necessita dell'impegno di ciascuno. In ambito europeo circa la metà dei comportamenti errati avviene entro le mura domestiche, il 17% in fase di distribuzione e vendita al dettaglio, il 19% durante la lavorazione. Ogni anno negli Stati Uniti finisce in discarica il 37% degli alimenti. In Gran Bretagna si buttano 6 milioni di tonnellate di cibo ancora edibile per un costo di 10 miliardi di sterline. Dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare nel mondo è aumentato del 40% ma solo di recente, complice la crisi economica globale, la questione è trattata come un vero problema. Grazie all'osservatorio Waste Watch International. E questa è la nostra storia di oggi, il nostro approfondimento e ne parliamo proprio con chi ha voluto e ideato questa giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare. In collegamento con noi il professor Andrea Segre, professore di politica agraria internazionale comparata dell'Università di Bologna, nonché fondatore di Last Minute Market della campagna Spreco Zero e proprio della giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare. Buongiorno professor Segre, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi. Venivamo da un trend positivo che però abbiamo perso un po' per strada perché gli ultimi dati raccolti ci dicono che la freccia dello spreco di cibo nelle case italiane è tornata a salire. Avevamo raggiunto un trend positivo complice anche la pandemia probabilmente. Ora con il ritorno alla vita sociale le cose tornano a peggiorare, possiamo dire così. Eh sì, una buona sintesi quella che ha fatto perché in realtà della pandemia e soprattutto del lockdown che vogliamo scordare, era successo qualcosa diciamo di buono, nel senso che dentro le mura domestiche costretti abbiamo ridotto lo spreco perché abbiamo fatto le cose giuste, la lista della spesa e poi la spesa molto mirata, la lettura diciamo analitica delle scadenze delle etichette perché avevamo tempo, la cucina del recupero se facevamo più da mangiare e devo dire che questo trend però era già in calo, c'è stato un bel contributo del lockdown. Per fortuna siamo usciti e uscendo diciamo abbiamo ripreso un po' le vecchie abitudini e quindi questo 15% in più ci deve far riflettere in modo da mantenere soltanto quella parte lì del lockdown. Il problema però rimane come prima perché se uno va a vedere dentro questi 600 grammi pro capite a settimana che vuol dire un po' più di 30 kg, peraltro a livello globale un dato molto buono perché fa i più bassi del mondo, in realtà ritroviamo degli alimenti molto buoni, di un alto valore nutrizionale, pensate all'insalata, facevate vedere la slide prima, alle verdure fresche, al pane, al latte, agli yogurt. Quindi davvero pensiamoci perché ancora troppo cibo finisce buono nella spazzatura e va a alimentare i rifiuti e quindi i costi ambientali, i costi economici e non diciamo le nostre pance. Ecco professore mi piace, intanto mi piace sottolineare come ha già fatto lei che comunque diciamo una buona notizia la tiriamo fuori in ogni caso da questa analisi perché l'Italia appunto resta la più virtuosa del G8, però è importante anche un aspetto a mio parere, noi gettiamo come lei ha sottolineato cibo buono, questo è importante ricordarlo perché magari nell'immaginario collettivo il cibo buttato è quello scaduto, quello non più commestibile, invece non è proprio così ed è questa proprio la tendenza che va invertita, perché mi chiedo buttiamo del cibo che potremmo tranquillamente non buttare? E noi questo osservatorio Westwatcher International che nasce dall'università studia i comportamenti, in realtà sono atti inconsapevoli, nessuno getta via apposta perché diciamo è uno spregio, non si sa bene a cosa, non ce ne accorgiamo e quindi per dire anche dei comportamenti sbagliati, compro più yogurt perché sono in offerta, li stipo nel frigorifero e li copro da una scarola che magari poi avvizzisce e me ne accorgo che sono scaduti dopo quando ho sposto la scarola, adesso ho fatto un esempio che sembra quasi da ridere, anzi viene da ridere, però in realtà è molto serio perché le ragioni dello spreco sono le più diciamo stupidi e vorrei dire inconsapevoli, stupidi nel senso non intelligenti e quindi ci vuole e questo viene fuori dal G8 dello spreco, cioè interrogando anche consumatori di altri paesi, educazione alimentare, il miglior spreco è quello che non si fa, infatti nel 2014 quando ci siamo sostanzialmente inventati la giornata nazionale il 5 febbraio l'abbiamo chiamata di prevenzione dello spreco alimentare, poi c'è tutto il tema e con lo spin off dell'università Last Minute Market, lo facciamo da più di 20 anni, del recupero di ciò che avanza a fini solidali, che però esclude per ovvie ragioni le nostre case, perché si può recuperare anche dai campi, nell'industria, nella distribuzione, ma nelle nostre case ciò che avanza e non viene consumato finisce nella spazzatura, non è recuperabile, ecco per questo ci siamo concentrati sulla prevenzione, solo per darvi un dato, se facciamo 100 lo spreco in Italia, dal campo, aziende agricole, qualcosa ci rimane, fino alla tavola che vuol dire anche il ristorante, il consumo extra domestico, a casa nostra si spreca per il 70%, questo è un dato molto simile anche in altri paesi sviluppati, 70%, tutto questo è stato prodotto usando delle risorse naturali limitate, pensiamo al suolo, all'acqua, all'energia, le citava lei prima nell'introduzione e poi non solo noi le abbiamo acquistate sostenendo un costo, ma sosteniamo un costo per gettarle via e in più i rifiuti come sappiamo bene inquinano, quindi è assurdo. Poi c'è il dato, scusi se prendo un altro secondo, dell'etica e della moralità, ricordiamo tutti il tweet di Papa Francesco quando scrisse gettare via il cibo e come rubarlo alla mensa dei poveri, oggi che i poveri alimentari sono così aumentati a causa della pandemia. Certo professore, poi mi viene anche da pensare che è nell'acquisto anche che dovremmo intervenire, perché probabilmente si acquista troppo, si acquista male, magari anche le offerte, i mega packaging, delle offerte 3x2 forse non aiutano, ci invitano ad un acquisto eccessivo probabilmente. E così, in effetti durante il lockdown, ce lo ricordiamo, potevamo andare al supermercato una volta, ve lo ricordate, tutti ce lo ricordiamo, quindi andavamo con la lista della spesa, mi serve 1, 2, 3, 4, 5, vado anzi un po' velocemente a prenderli con poca disattenzione rispetto a offerte, offertine, offertone, perché devo stare poco tempo, anche perché c'è qualche rischio magari. Ecco, è una buona pratica che dovremmo mantenere, a prescindere da dove vai a fare la spesa, cioè prendi quello che ti serve, perché andare oltre pensando, beh, tanto non l'ho pagato e quindi lo posso sprecare. Il 3x2 è un classico esempio, cioè dove il terzo prodotto è gratis, non l'ho pagato, ma qualcuno l'ha pagato per te e comunque se lo smaltisci lo paghi. E soprattutto ci serve davvero, questo è anche l'interrogativo magari che possiamo porci quando andiamo a fare la spesa. Allora, professor Segret, io intanto la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Abbiamo ancora 30 secondi e approfitto della sua presenza qui per magari dei piccoli consigli pratici anche, insomma, che possiamo fare quotidianamente. Il primo è la lista della spesa, il secondo, sembra banale, leggete le istruzioni del vostro frigorifero a casa, oppure il nostro libro Il Metodo Spreco Zero, e capirete dove posizionare i prodotti, come utilizzare al meglio questa conservazione. Tanti piccoli segreti che in realtà sono molto facili, che aiutano a non sprecare. Grazie mille, professor Segret, con la speranza che nella prossima giornata nazionale della prevenzione dello spreco alimentare magari vediamo di nuovo invertita la rotta. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi.